Da quando Mauro Ferretti ha preso le redini dell'Unione Sportiva Rezzo non aveva mai assistito ad una pioggia di fischi come quella che ha chiuso il match tra Rezzo e Foligno. Il secondo pari raggiunto in extremis non è piaciuto alla piazza Amaranto che ad inizio stagione sognava di duellare per il primo posto o comunque di essere a pochi punti di distacco dalla capolista. Da settembre ad oggi però gli Amaranto gli in testa non ci sono mai stati e nonostante una serie di risultati utili che parla di nove partite senza sconfitte sono arrivate nelle ultime due partite due pari in extremis e soprattutto tante critiche e fischi. I malumori dalla tribuna si sono concentrati sui giocatori e soprattutto sul tecnico Davide Mezzanotti. Tutto tranquillo almeno fino al venticinquesimo del primo tempo quando Galbiate ha infilato l'incolpevole Scarpelli. Fino ad allora la Rezzo aveva prestato attaccato andando anche vicino al gol il passivo è innescato in malumori già presenti in una piazza che rispetto a quanto detto nei giorni scorsi riteneva la partita con il Foligno una sorta di match verità. Nonostante il patrono abbia applaudito alla tribuna VIP la squadra il pubblico non ha gradito la prestazione tanto che qualche tifoso esposto i suoi dubbi sul rendimento al presidente Ferretti per la prima volta da quando ha acquistato l'Unione Sportiva Rezzo assistito alla contestazione del Cavallino. Nella serata di domenica direttamente dal sito dell'Unione Sportiva Rezzo è arrivata la risposta del presidente Ferretti alle critiche. C'è anche un ringraziamento alla squadra e all'allenatore per l'ottima prova fornita nell'incontro con il Foligno. Rinnovo la fiducia incondizionata di C'è Ferretti nei confronti della squadra, del management e dello staff tutti impegnati in questa battaglia sportiva. Disapprovo decisamente il comportamento incestificato di alcuni tifosi con fischi e insulti anche nei miei confronti. Noi siamo coesi e arriveremo al traguardo prefissato. Insomma, a quanto pare non è andata giù al patrono la prima contestazione della sua era. D'altronde passare dall'applauso a scena aperta, dal vive il presidente urlato da alcuni tifosi in tribuna d'ottobre, arrivare fischi all'indirizzo della squadra nel giro di poche settimane non potrebbe mai fare piacere a nessuno. D'altronde passare dall'applauso a scena aperta, dal vive il presidente urlato da alcuni tifosi in tribuna.